. Chiara Ferragni e Valentina, Dior Look per la PFW Emozione, bellezza, glamour, le sorelle Valentina e Chiara Ferragni sono tutto questo e molto di più, mentre si preparano alla sfilata di Maria Grazia Chiuri per Dior. Gli abiti sono raffinati e meravigliosi, proprio come loro, due biondissime bellezze alla corte della Paris Fashion Week. Chiara Ferragni, con Valentina forma un duo meraviglioso per Dior. Per la sfilata di Dior ci sono due gioielli d'oro incoronati che stanno per ammirare la nuova collezione Primavera-Estate 2018 firmata da Maria Grazia Chiuri. . Di chi stiamo parlando? Ecco Chiara Ferragni è la sorella più piccola, Valentina, in posa per la foto di Rito prima di partecipare allo show di una delle loro Maison preferite. . Il look? Ovviamente è completamente di Dior e gli abiti sono fantastici. . La Fashion Influencer, numero uno per Forbes, indossa un abito con spalline strettissime e scollo a barchetta, con corpetto ricoperto da un sottile tulle nero trasparente cosparso da coloratissimi inserti floreali. . La gonna è composta da un mix e match di vari colori sgargianti, apposti in strisce cromatiche verticali un accanto all'altra. . E Valentina? Il design del suo abito è esattamente identico a quello di Chiara, quindi corpetto rigido e gonna morbida, ma nel suo caso il look di Dior è sui toni del nero e del blu, sfumato su tutta la lunghezza del vestito, realizzato con finissimi ricami di stampo barocco. . Gli abiti della Maison riflettono i due stili delle giovanissime ferranniche e, nonostante siano sorelle davvero molto somiglianti in apparenza, sono del tutto differenti. . . Un'allure più eccentrica, appariscente, originale per la maggiore, che adora stupire e osare, una elegante, romantica e chic per la più piccola, che adora seguire le orme fashion di Chiara, di cui, dobbiamo dirla, rappresenta l'erede più promettente. . La fashion blogger, tra le 500 più influenti per BoF, ha totalizzato negli ultimi tempi la cifra esagerata di 10 milioni di follower su Instagram, un traguardo ancora lontano per Valentina che però, con il suo milione e mezzo, si difende benissimo ed eguaglia o supera vip italiane dello star system ben più consolidate nel tempo. . . L'allieva supererà la maestra? . . Chiara Ferragni parte da sola per Parigi e anzi no. Da uno degli ultimi scatti condivisi su Instagram da Chiara Ferragni, sembrava che la neo trentenne stesse partendo per Parigi sola a Soletta, ma non era vero, visti gli ultimi post. . . La fidanzata di Fedez, che non l'accompagna perché, evidentemente, impegnato tra casa discografica X Factor XI, partecipa alla Paris Fashion Week insieme a Valentina Ferragni, sua sorella più piccola, e alla sua TBS Crave, che la segue in ogni passo nella capitale francese. . . . . . . . . .